L'aeroporto di Trieste è verso un nuovo socio di maggioranza. Stamattina l'apertura delle buste con le offerte per il bando di gara. La società F2I, importante fondo di investimento europeo, è pronta ad acquistare il 55% delle quote dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Non un partner meramente finanziario, ma un operatore rodato del settore. Il fondo F2I già possiede le quote di maggioranza degli aeroporti di Napoli, Torino e Alghero, oltre a essere azionista anche degli scali di Malpensa, Linate, Bergamo e Bologna. Attraverso gli aeroporti in cui già opera, gestisce il 40% dei voli in Italia. La stazione appaltante ha verificato i requisiti amministrativi previsti dal bando e nei prossimi giorni la commissione nominata dallo scalo di Ronchi valuterà l'offerta tecnica ed economica. Il limite di chiusura dell'operazione è previsto per marzo, poi verrà nominato un nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo amministratore delegato di Trieste Airport. L'offerta di F2I rappresenta non solo un merodato tecnico, ma un tangibile punto di partenza su cui costruire il rilancio dell'aeroporto, così il presidente Fedriga subito dopo l'apertura delle buste. Se la cessione delle quote si concretizzasse, ha concluso il governatore, la regione conterebbe su un partner di primo piano nella definizione di obiettivi sempre più ambiziosi per la nostra comunità. Prioritario per il futuro di Ronchi lo sviluppo di nuovi collegamenti e rotte che la nuova proprietà potrà garantire anche grazie all'importante rete di interconnessioni con gli altri scali in cui già è azionista.